Essenzialmente perché sono più facili da calcolare. Le banche sanno che una volta concesso il mutuo ipotecario, riceveranno l'interesse stabilito per una durata ben definita. Il rischio principale è sicuramente lo scioglimento del vincolo dell'ipoteca. Se si vende la proprietà per un qualsiasi motivo, bisogna distire l'ipoteca. Ciò comporta l'obbligo di saldare tutti gli interessi per la durata restante dell'ipoteca con l'aggiunta degli interessi negativi. È molto probabile che in questo modo l'onore ipotecario raddoppi. Se si considera che un'ipoteca a tasso fisso viene scelta proprio per evitare di dover pagare di più in caso di rialzo dei tassi, bisogna proprio chiedersi perché una tale scelta deve ritorcersi contro in questo modo. In teoria sì, il loro tasso viene adeguato ogni tre mesi e può aumentare sensibilmente. Ma appunto solo teoricamente, perché la Banca Nazionale Svizzera controlla il tasso di interesse e gestisce l'economia. Al momento viviamo una situazione delicata. La Banca Nazionale Svizzera preferisce mantenere invariati i tassi per evitare di danneggiare l'economia e non prendere decisioni che affreppero ripercussioni politiche. Per cui possiamo restare fiduciosi che i tassi resteranno bassi ancora del tempo. di essere flessibili. Al momento la flessibilità è più importante della sicurezza. Además è diventare tranquili. Assolutamente, ma anche la torta frenatica è più importante di trovare difficile. Molto, verità è fondata. Sono il nostro progno e lo secondo. Con l'arraθη amabilità buği tuning sono stati che i tassi ott拜拜, Grazie.